Migliorare la prevenzione, migliorare le condizioni di sicurezza sono le parole d'ordine per la sottoscrizione di questo protocollo che migliorerà indubbiamente i vostri reciproci rapporti. Questo certamente. L'obiettivo è quello di migliorare ancora di più le condizioni di sicurezza antincendio dei pazienti del nostro ospedale attraverso un accordo di collaborazione cui vogliamo dare le gambe per camminare. Noi diciamo sempre che una chiamata di soccorso che ci arriva da un ospedale tra tutte le chiamate di soccorso è quella che ci fa più paura. Questo è comprensibile perché abbiamo tantissimi pazienti allettati e quindi non autosufficienti per poter fare l'evacuazione. Attraverso questo accordo metteremo il naso con una maggiore costanza all'interno delle strutture sanitarie per poter conoscere meglio i luoghi dove ci auguriamo di non dover mai intervenire e quindi potremmo in questo modo portare un soccorso migliore. Nello stesso tempo cercheremo di dare dei consigli attraverso un'adeguata formazione e informazione sulla sicurezza antincendio per cercare di fare prevenzione piuttosto che protezione. Per l'ASL cosa significa la sottoscrizione di questo protocollo? La sottoscrizione del protocollo significa il consolidamento di una collaborazione che abbiamo già esistente col comando dei vigili del fuoco ma soprattutto uno sviluppo di questa collaborazione. Significa potenziare la reciproca formazione dei nostri operatori, dipendenti ASL e dipendenti vigili del fuoco, nello scambio delle conoscenze che abbiamo. Noi abbiamo le conoscenze sull'intervento in situazioni di urgenza su un malato, che sono situazioni che anche loro vedono al di fuori delle strutture sanitarie. Noi abbiamo necessità di avere da parte loro tutta la formazione, competenze e conoscenze su gestire il rischio a partire da quello incendio, il rischio del fuoco, ma anche altri, rischio chimico, rischio biologico, rischio radiativo, eccetera, perché gli ospedali sono strutture che per la presenza di tanti malati, spesso allettati e che non hanno autonomia, a rischio sia per l'incendio perché in caso di evacuazione noi dobbiamo essere preparati a trasferire questi malati al di fuori. È una competenza che non possiamo fare da soli, dobbiamo farla insieme.